Se ci fosse stato l'azzeramento della giunta, forse oggi non si sarebbe davanti ad una sfiducia repentina del sindaco della città. Lo ha affermato l'avvocato Adriano Bellacosa nella conferenza stampa convocata presso il suo quartier generale all'indomani della firma dei 15 consiglieri comunali del PDL che hanno sancito il commissariamento della città. E Bellacosa ha affermato che è meglio un commissariamento che un sindaco sotto ricatto. L'esponente del centrodestra nocerino e provinciale ha poi ribadito diversi punti relativamente alla giunta. Punti che non andavano come quello di una nomina totalmente politica del segretario che li ha definito mezzo segretario dei popolari dell'Udeu Pasquale D'Acunzi piuttosto che di un ex sindaco oppure del professore Ricciardi esponente di rifondazione comunista o di Tonia Lanzetta espressione del Fli e già dei circoli della libertà. Forse l'unica persona che sarebbe andata bene se non fosse stata nominata all'Udc sarebbe stata l'avvocato Criscuolo. Ma questa ormai è storia antica. Ascoltiamo le parole dell'ex candidato del centrodestra che hanno bella cosa su quanto è accaduto e soprattutto sul futuro suo e del centrodestra ed afferma che al momento è precoce parlare di nuova candidatura al sindacato. Meglio questo e meglio subito un sindaco che non avendo i numeri non può fare il sindaco guardate avrebbe avuto bisogno di sette altri consiglieri comunali e dove li andava a prendere? In cambio di cosa? La città ha da prendere scelte importanti. Allora meglio che questo venga fatto da parte di un commissario, da parte di un uomo di Stato e dello Stato che possa operare con trasparenza e vera legalità senza essere ricattato da nessuno, senza dover scambiare favori per poter mantenere una maggioranza. Io credo che questo non faccia piacere a nessuno ma credo anche che nella storia della nostra città così come ci sono stati tanti commissariamente ci sono stati anche tanti commissari che hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Noi continueremo a lavorare con l'impegno, la unità di sempre perché noi continuiamo a portare avanti quello che era il nostro progetto politico, lo abbiamo fatto sempre con vera responsabilità e vero impegno. Questo credo che sia testimoniato da quello che noi abbiamo fatto anche ieri in Consiglio Comunale. Noi abbiamo portato avanti le nostre idee, anche le nostre contestazioni se avevamo da contestare. Continueremo a farlo perché noi, e sia chiaro, noi rappresentiamo più della maggioranza dell'elettorato di Nocera Inferiore, e quindi del popolo di Nocera Inferiore. Noi rappresentavamo oltre 17.500 nocerini su circa 31.000 elettori. Quindi noi eravamo una chiara maggioranza in Consiglio Comunale. Il Sindaco rappresentava 15.000 voti su 27.000 gli elettori al ballottaggio, questi sono stati, ma nel rapporto con tutti quanti gli elettori del primo turno, il Sindaco non rappresentava neanche la maggioranza dei consensi. Questo credo che sia un dato politico, ma anche semplicemente numerico importante. Quindi noi continueremo a portare avanti il nostro impegno perché siamo persone responsabili e quindi continueremo a lavorare anche con il Commissario. In questo momento comunque non si può fare di una storia di candidatura. Assolutamente no, non c'è competizione elettorale, non ci sono campagne elettorali da fare, c'è da lavorare tutti quanti insieme per la nostra città.